dobbiamo riparlare di facchinetti ragazzi perché è di brunetta tanti altri mostriciattoli perché quando ho fatto il video su facchinetti ho tagliato insomma farlo vedere che era un mostro lui però in un video che ho preso disse una bella cosa che io devo dargli credito adesso sentiamo e di cosa parlo in questo video parlo del del fatto che lo stato ti vende questo no c'è ti da ti arma con questo c'è ti dice di essere pacifico mentre loro stanno tutti così che quindi qui facchinetti dice una cosa interessante perché questo intanto sentiamo cosa dice continuiamo a girarci intorno ma questa situazione non è colpa degli italiani non è colpa degli zingari non è colpa degli albanesi non è colpa dei rumeni ma è colpa del non stato io dissi in un video l'albanese non è che nel dna dell'albanese è cattivo è semplicemente che quando viene qua in italia lo lasciano fare in albania se tu facevi qualcosa ti appendevano in mezzo alla piazza e nessuno osava toccarti ma poi andrò un po oltre perché anche in albania per esempio non nessuno nessuno ti puniva perché c'era una pressione sociale ad essere buono cosa che qui non c'è più che con la cultura abbiamo distrutto e quindi essendo diventati bambini perché loro distruggendoti con la cultura ti fanno diventare bambino così ci deve essere l'adulto che è lo stato che ti deve gestire da bambino deve fare l'adulto quando tu non sei più in grado di gestire di capire cosa è giusto cosa è sbagliato da te è ovvio dentro di noi non sappiamo cosa è giusto cosa è sbagliato però servono delle regole ogni tanto per non uscire da questi binari che ormai non non ce l'abbiamo più questa regola anzi loro promuovono l'opposto perché poi ci deve essere più stato ci deve essere l'adulto per questo ci dicono di fare i bambini quindi continuiamo facchinetti che dice una cosa giusta qua e noi abbiamo avuto e abbiamo perché nel non stato la delinquenza trova terreno fertile che poi lui non stato è come se sta dicendo che voglio più stato quindi non sono d'accordo volere più stato però poi lo spiego dopo questo io non credo come crepe che i zingari hanno terreno fertile in italia perché noi italiani amiamo comprare l'oro rubato perché non è così perché sennò in svizzera sarebbe pieno di zingari visto che c'è un traffico di oro di diamanti di macchine di ferrari di lamborghini non è così l'italia è un non e dallo studio adesso cominciano a sentire che questo invece di prendersela con le pecore zingari albanesi italiane detto non è colpa loro c'è delle pecore è colpa dello stato ha detto quindi nell'alto e dallo studio adesso si sente lasciamo perdere non diciamo che l'italia non va bene stato dove tutti fanno quel cazzo che gli pare lo possiamo dire o no lo possiamo dire o no quindi non diamo colpa gli italiani non diamo colpa diamo colpa al nostro non stato che non esiste non fa niente abbiamo spesso quindi non stato quindi è come se sta promuovendo più stato lui qua quindi non è che lo questo però qualcosa di buono c'era in questo intervento anche se alla fine secondo lui la soluzione è più stato l'uomo e questo cercherò di dire in questo video deve cercare di capire da sé cosa è giusto cosa è sbagliato altrimenti qualcun altro si occuperà di lui e di dirgli di mettere tante regole no per per esempio perché ci sono contratti o avvocati e cose del genere che noi ci siamo creati tutta questa mostruosità di sistema perché l'uomo non ha più la capacità di dire la parola a qualcuno e di mantenerla questa è una cosa che io ho notato molto qui in italia per direvano sovvenuto che la gente non c'ha proprio cioè dà la parola e poi non la non rispetta la parola data no è molto impressionante questa cosa quindi e quindi cosa c'è quando tu diventi un bambino dove la tua parola non vale niente se diventi un bambino veramente non affidabile senza non responsabile di quello che fai a quel punto ci devono essere regole perché a forza che fai bambini poi litighi e quindi quindi loro creano il caos ti rendono bambino ti rendono irresponsabile così poi c'è bisogno di tante regole tante regole finché siamo arrivati nel 2020 dove insomma siamo trattati da bestia però sentiamo come allo studio qua e dico ma che dici l'italia è un grande paese a fare che cosa a fare che cosa ci siamo inventati l'anti berlusconismo e quindi l'opposizione non ha fatto nulla tranne che dire berlusconi è cattivo poi è arrivato quell'altro cioè ragazzi siamo un paese che fa ridere lo possiamo dire politicamente facciamo ridere non è detto che noi si possa dirlo che facciamo ridere facciamo ridere sì facciamo ridere siamo andati a votare su alcune cose non ci siamo su alcune cose non ci siamo francesco sulla sulla sicurezza nelle strade in questo caso in queste storie che abbiamo raccontato non ci siamo dire che facciamo ridere secondo me è troppo ok ora chiudiamo questo andiamo da brunetta ragazzi da brunetta per dire io dico qui in italia ma ormai anche nel mio paese in albania che io non ho visto da anni ormai però mi sento più albanese e anche la gente è zozza perché questo è un programma dall'alto in tutti i paesi devono renderci più zozzi tu basta che vedi un video degli anni 60 70 la gente era molto più adulta io stavo vedendo quando ho montato il video di sinisa vediamo un attimo se riesco a trovarlo il video di sinisa dovrei averlo qua un secondo poi andiamo da brunetta qui ci sono sinisa primo figlio maschio vedete un po qua cosa succede in questo video qua qua qui siamo anni inizi anni novanta in yugoslavia sinisa mia lui fa un fallaccio perché lui era un pazzo un coglione ecco sto schizzato qua fa un fallo però eravamo in un paese comunista dove la gente è stata distrutta un po più lentamente rispetto a qua in occidente the west is the best e guardate come si comporta cosa che se tu fai oggi una cosa del genere è inconcepibile per quanto siamo diventati bambini quindi vediamo cosa succede lui fa un fallaccio anche lo speaker qua è jugoslavo quindi prosinecki guarda come entra entra malissimo qua in grandisco entra come un zozzo che è guarda ecco guarda come viene viene il capitano credo comunque un giocatore dell'altra squadra e guarda come lo prende per i capelli questo è sinisa ma caga è guarda come lo prende che cazzo hai fatto coglione si entra così prova a farlo adesso adesso i giocatori sono come dei bambini addirittura simulano il fallo no? e vanno dall'arbitro come dei bambini e dicono bambini totali guarda che cazzo gli ha fatto questo l'ha preso perché l'ha visto che ha fatto una cosa che non si doveva fare queste sono cose inconcepibili oggi ragazzi perché siamo completamente bambini se tu vedi una partita di calcio e vedi dei bambini dei coglioni che fanno no no ha fatto lui il fallo no io non l'ho toccato no io non l'ho toccato cose che prima non faceva la gente era adulta porca troia guarda come l'ha preso per i capelli e lui non dice niente perché sa che ha sbagliato guarda sinisa sa che ha sbagliato qua guarda guarda se tu io poi l'ho tagliato qua nel video però lì continua e lui lo tiene per i capelli così e poi dopo lo lascia e lui non dice un cazzo perché ha capito che ha sbagliato e comunque tutto sommato sinisa ragazzi tra tutti i mostri che ho montato lui si è un mostriciatro e tutto però è più cioè questi sono soldatini senza cervello ragazzi però mi è piaciuto il fatto che a un certo punto ha parlato male della nato per dire no quindi non era completamente zozzo tra tutti questi mostri che ho montato sinisa lo metto un po' meglio anche se è un zozzo tutto sommato e infatti già si vedeva lì dagli anni inizi anni 90 che era un zozzo entrava così perché era un po' malato demente diciamo no poi e loro in alto loro puntano su gente senza morale senza niente senza un po' matti lo senti parlare questo in interviste e cose però siccome non era molto sveglio di cervello non l'hanno non l'hanno sì gli hanno fatto promuovere il vi il vi è un po' neanche più di tanto quindi tutto sommato lui non lo vedo così malvagio diciamo per dire fedez è molto più zozzo di lui per dire a questo non lo sto dicendo perché lui è iugoslavo quindi mi sento più vicino no assolutamente anzi lui è serbo quindi dovrei essere conto dovrei secondo le etichette che ci mettono se ci sono un po' di rumori qua perché la telecamera è vicino al rumore quindi possiamo chiudere questo video no 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 quindi quindi io ero partito per fare questo video in questa cosa qua c'è tutto partito da questa questo mi ha dato l'input no e questo input lo vedo ovunque no che loro la non violenza no cioè che loro parlano di non violenza però è come se dicessero al popolo insomma che dobbiamo essere buoni mentre vivono mentre il popolo vive in una gabbia totale da gente armata fino ai denti però al popolo loro dicono che dobbiamo essere pacifici quindi dicono ai giovani andate in piazza e protestate per la pace dobbiamo essere pacifici pacifici e quindi mi hanno messo in testa di fare un montaggio su per per far vedere questa contraddizione di questi zozzi no che da una parte dicono che dobbiamo essere pacifici però se li vedi stanno tutti belli coperti quando escono in giro per dire no tipo questo e ho fatto un mini montaggio veloce veloce avrebbe potuto essere molto più intenso questo montaggio però da l'idea cioè da una parte parlano di pace in questo video vedremo e dall'altra li vedi tutti blindati e chiusi i bodyguard eccetera eccetera vediamo che Brunetta fa un po' fatica a partire perché vedete la violenza è figlia del siamo qui per la pace dei fondamentalismi dell'ideologismo del non rispetto degli altri democrazia e pace viva la democrazia e siamo qui per la pace nessun fischio pezze straordinarie questo è Draghi il presidente si sente pronto ad affrontare questa sfida Draghi esce dalla sua casetta a Roma il presidente si sente pronto di governo Brunetta cosa ne pensa del clima? del clima il clima è bellissimo c'è il sole fermi con le mani c'è il sole fermi ma ne sente le contestazioni? no se dico pace lei cosa dice? eh dico che non ce n'è abbastanza intanto tutto blindato là e non tra lì discussione sulla pace e soprattutto alla promozione della pace c'è un taglio fra una volta dice pace e l'altra parte tutto pieno di bodyguard c'è un Papa lui parla di pace la più grande scommessa di pace io però sono uno di quelli che dice che ci vuole un esercito europeo il casco blu delle Nazioni Unite simbolo di pace di prosperità tanta prosperità paurella che non vedi insomma avrebbe potuto essere un po' più più ad effetto se avessi dedicato più tempo volevo trovare tutti i pezzi dove prendevo prima quando dice la pace poi dall'altra parte è tutto pieno di di poi volevo anche condividere queste belle immagini pacifiche prese lì qua e là per il mondo il nostro mondo democratico e pacifico però ovvio quando tu hai reso bambino la popolazione la popolazione fa così e poi da notare anche come Brunetta no? qui a un certo punto lui chiede com'è il clima? e lui dice com'è il clima? il clima è bellissimo ecco il clima del clima il clima è bellissimo il cel sole fermi fermi cioè quando e c'è gente per dire che vota gente del genere no? che non ha la minima vergogna per esempio di cioè nell'uomo oggi è talmente normale così mentire e fregare il prossimo e che niente c'ha la faccia tranquilla proprio perché loro non esisterebbero se questa sozzeria non fosse anche in coloro che li mandano lì e quindi quindi come fare cioè la base e questo non riescono a capire questi magari questi protogruppi che si stanno magari cercando di creare per cercare di contrastare la questa dittatura che stiamo vivendo non riescono a capire che secondo me la base la base per poter fare qualcosa a questi mostri è di ridiventare grandi ragazzi ma diventare grandi con una base di di virtù morale dell'uomo e quindi per questo la la costituzione americana era speciale quando è stata creata perché è la prima che dice che mette mette Dio che tu ci possa credere o no in Dio loro dicono noi ci basiamo su una legge naturale nel senso che se l'uomo non rispetta certe leggi anche morali paga le conseguenze come tu per esempio puoi pagare le conseguenze per una legge fisica che metti il dito sul fuoco e ti bruci allo stesso modo che il sistema oggi ha allevato totalmente questa cosa come se non non avesse nessun effetto cioè anche una legge morale morale che se l'uomo non è guidato da questa legge morale arrivi dove il politico anche in mezzo ai fischi la non c'ha la minima vergogna perché effettivamente anche il popolo l'intorno non c'ha vergogna sono tutti i zozzi vanno a protestare per i diritti ai cinghiali ho visto io a Roma con Amerigo con la mascherina protestare i diritti ai cinghiali mentre un bambino viene ucciso tranquillamente non appena non nato nemmeno e questi lo chiamano un grande diritto che abbiamo acquisito ha un grande diritto quindi noi siamo diventati zozzi come loro ci hanno fatto diventato diventato zozzi come loro e per poter avere una giustificazione quindi quello che serve all'uomo quindi dicevo della costituzione americana io non so perché a un certo punto noi dobbiamo anche capire che a un certo punto perché se non sbaglio tu Fabio tu dici che che non lo trovi molto cioè io non so qual è la tua idea su come poter costruire una società per dire perché quando hai criticato altri video quando parlo di questa cosa di Bill Cooper della costituzione quindi tu sei forse più per un'anarchia nel senso che se l'uomo fosse adulto diciamo di lasciarci libri fare da noi però il problema è che l'uomo storicamente è stato anche se adesso è stato accentuato questa cosa questo stato infantile dell'uomo però storicamente è sempre stato fregato facilmente da questi in alto e è l'unica cosa che da quel poco che so insomma in America questi questi massoni diciamo hanno concesso quindi la costituzione americana è l'unica che per la prima volta ha reso potenzialmente libero l'uomo tanto da dargli la proprietà privata che è una cosa principale come quindi libertà di parola libertà di avere proprietà privata e che sono le basi e anche di essere di armarsi perché la natura per sua natura chi lo stato diciamo cerca di di diventare grande e il potere e il potere no? tu avendo potere vuoi sempre il potere no? ma un attimo di pausa e quindi nella costituzione americana hanno messo questa cosa che che qui non è concepita perché ovviamente qui siamo in prigione totalmente il fatto cioè che potenzialmente dando cioè noi uomini creiamo questa entità che ci aiuta a fare delle cose che però deve servire noi ma questa macchina stato che noi stiamo creando se ha il rischio creato da uomini c'è il rischio che prenda il sopravvento no? perché noi stiamo creando una macchina grossa che si occupi di certe cose ora saremo in grado di anche di fare a meno di questa entità forse tu dici questo Fabio non lo so però proponi dimmi quale potrebbe essere questa questa tua modo di dire la cosa e quindi ecco una cosa che rende completamente diversa da tutte le altre costituzioni quelle americane è che c'era questo elemento di virtù morale che gli uomini infatti uno di loro di questi padri fondatori americani diceva che quando l'America smetterà di essere virtuosa e buona diciamo morale finirà tutto e oggi cosa vediamo per dire che che le cose non vanno è proprio una mancanza di questa di questo elemento qua della virtù morale insomma dell'uomo che se non fosse per quello questa gente questa gente non riuscirebbe a fare quello che ha fatto perché non avrebbe terreno fertile a fare zozzerie come stanno facendo adesso però una volta che ci hanno resi i zozzi noi non ci facciamo caso e quindi questo è un elemento che che molta gente non riesce a capire che che è fondamentale per creare una società giusta cioè l'uomo deve deve essere giusto e per essere giusto per dire in America loro avevano detto che l'uomo è una creatura quindi all'uomo potrebbe essere anche solo un concetto ragazzi se voi non ci credete in Dio Dio ha creato l'uomo e ha dato all'uomo la libertà dei diritti cioè libertà di vivere di non essere ammazzato da un altro questo è il mio diritto di difendermi per dire e basandosi quindi su questo questa è la la gerarchia Dio nella costituzione americana Dio il popolo che poi crea a sua volta dopo questa entità che si chiama Stato che deve servire il popolo no? e non è questo Stato che dà i diritti a noi no! siamo noi che diamo dei diritti a questo Stato per fare delle cose che ci rende la vita un po' più semplici ma ma questo concetto specialmente qui in Italia non è concepibile che loro loro sono i nostri servitori però in realtà quando tu esci o devi avere a che fare con questa gente ti senti veramente come se loro sono i tuoi servitori? non penso proprio tu ogni volta che hai a che fare con questa gente qua ti cachi sotto diciamo la verità però loro promuovono questo perché ti vuole ancora più bambino ok quindi questo è un concetto che boh cosa è successo? cioè il quindi vorrei avere una discussione già dica a Fabio perché è l'unico che scrive qualcosa gli altri guardano soltanto non hanno un minimo forse perché si a me mi sembra strano ragazzi che nessuno ha un input un qualcosa per commentare per dire cioè se non siamo noi a a voler creare ma che ti aspetti l'esperto che ti deve dirigere dobbiamo usare noi la testa ragazzi dobbiamo usare la testa perché altrimenti cioè che cazzo proponiamo questa merda perché una se noi diciamo ma che cazzo ma che cazzo che cazzo se ne frega significa che loro con questo stato qua se tu non c'hai nessuna cosa da proporre in modo intelligente non violento per il momento perché ci è ancora concesso parlare creare video e poter discutere su un futuro mondo no? su come cazzo lo vogliamo no? ma se noi non vogliamo nemmeno sporcarci le mani nemmeno su questo infatti siete tutti nascosti la senza nome senza faccia senza niente guardate e basta avete sti gruppi ma ce l'avete paura questo io capisco perché perché neanche voi siete ancora chiari su quello che volete e e non capite che secondo me un elemento importantissimo in tutto questo è un aspetto della virtù morale dell'uomo e e questo per quanto possiamo dire quello che volete per quanto uno può credere quello che vuole basta che vedi insomma secondo te la maggior parte prendi un gente qualcuno per la strada gente comune per strada ma molto probabilmente non crede in dio per dire così se fai uno più uno fa due dovresti fare l'opposto no? perché l'uomo comune è modellato perfettamente come lo vogliono quelli in alto quindi dobbiamo cercare di fare il contrario oppure quando vedi la tv cerca di capire cosa vuole farti fare il nemico e l'opposto è la giusta la cosa giusta non è che ci vuole chissà che cosa però il problema è che molta gente siccome siamo nati in questa zozzura e io ho la fortuna di essere albanese che i primi dieci anni l'ho vissuto in Albania dove non c'era questa zozzeria e capisco come per esempio in Albania non c'era bisogno che qualcuno ammazzava cioè lo stato ammazzasse quello che rubava perché la gente stessa non rubava e solo una volta mi ricordo che io non l'ho visto perché non si vedevano la gente era buona e non era nemmeno concepibile fare del male o fregare il prossimo anzi il contrario mia madre mi dice questa cosa che è successo quando lei io non ero nemmeno nato quindi dicevano che nella sua fabbrica siccome era entrato una volta due ladri e avevano anche tipo fatto male o ucciso la guardia della fabbrica li appendevano li hanno appesi e tutti gli operai che entravano lì fra cui mia madre e mio padre che lavoravano nella stessa fabbrica dovevano vedere questa scena di questi due ladri che erano entrati per rubare gli attrezzi là e avevano ucciso anche la guardia appesi là nella fabbrica ma questa è l'unica cosa che so di violento che abbia mai fatto lo stato diciamo lì in Albania certo ovviamente devi fare lo schiavo e non devi insomma alzare la testa più di tanto perché però c'era questa cosa che che era buona e comunque di base la gente era molto molto adulta cosa che venendo qua ho visto una cosa impressionante ma che cazzo è sta roba ok quindi fammi vedere quanto è arrivata ok sono lì 30 minuti ah quindi sono spostato quindi avete visto solo un occhio ah Marcello è uno di loro ha messo solo un occhio quindi avete visto perché io non ho più la capacità e la possibilità di spostare le composizioni quindi ok quindi spero sia arrivato qualcosa ecco un'altra cosa per esempio che che la costituzione perché io adesso non dico ah dobbiamo credere in Dio allora dobbiamo essere tutti cristiani no e la cosa originale anche in questo della costituzione americana era che loro rispettavano le religioni infatti loro in America erano provenivano da tante diverse religioni da tante diverse culture e la costituzione gli garantiva di pregare il Dio che vuoi finché tu non tocchi la proprietà di qualcuno non ammazzi qualcuno tu a casa tua vuoi fare sei gay perfetto basta che però non me lo insegni a mio bambino questa cosa non lo forzi come fanno adesso nelle scuole per dire a un bambino che non ha la capacità di e se tu genitore poi cerchi di di dire no grazie non è concepibile anzi sei sei un genitore cattivo da mettere nella gabbia già siamo e quindi che sta a dire quindi questo è un altro elemento è che si io non sto dicendo in questo video che dobbiamo ognuno di noi può credere a quello che vuole basta che in questo eventuale mondo che magari possiamo creare capiamo che ognuno fa il suo il suo traguardo verso la illuminazione diciamo per usare un termine loro spirituale personale non è compito mio dire che è giusto o sbagliato ok fai quello che vuoi io ti rispetto cosa che hanno fatto in America e quindi io non sto dicendo quando parlo di che dobbiamo avere un po' di morale un po' di cosa in Albania per dire non c'era Dio nemmeno eppure l'uomo dentro di sé capiva che doveva non ammazzavamo eravamo giusti eravamo buoni eccetera eccetera quindi non sto dicendo che assolutamente serve che la pensiate anche a livello di spirituale come me no assolutamente io quando parlo di Dio tu puoi basta che ecco capisci che questa è la cosa fondamentale nella Costituzione americana è che Dio viene prima di tutto là che sia il concetto di Dio o Dio letteralmente comunque il concetto dice che io ho diritto di vivere io essere umano e tu non me lo puoi togliere e se tu cerchi di togliermi io mi devo difendere quindi quando qualcuno mi dice ma come dobbiamo fare qual è la soluzione la soluzione è che se ci sono teste di cazzo che cercano di farti fuori tu ti devi difendere e siccome la cosa dell'uomo l'ingegno dell'uomo ha creato le armi che è un'estensione della mano che mena è una macchina che rende più forte la capacità di uccidere questa è l'arma e siccome potenzialmente tutti abbiamo la capacità di creare un'arma però siccome siamo bambini adesso non ci è concesso usare questa arma tranne che loro che sono in alto che sono gli adulti però a quel punto questo diritto che viene dal mio creatore che di vivere o di difendermi se qualcuno cerca di ammazzarmi viene meno a quel punto io divento schiavo totale e quindi questo era questo concetto questo diritto ed è fondamentale da capire perché dicono me l'ha dato Dio e non l'uomo perché non me lo puoi togliere è inalienabile questo diritto che ho da Dio mi ha creato e io per il fatto di essere creato insomma ho il diritto di vivere e se tu cerchi di levarmi questa libertà io la la difenderò ripeto cosa questo concetto in Italia è inconcepibile potersi difendere se qualcuno vuole venirti adesso a bussarti la porta come stanno cercando di dirci dal 2020 e portarci in campi di concentramento questo li devi lasciar fare questa è follia ve lo devo dire io così apertamente porca troia ce l'avete il cervello? però io so anche che quando il momento sarà difficile molti di voi che siete senza palle purtroppo anche voi che guardate questi video andrete avanti con il sistema perché non non avete le palle di combatterlo purtroppo e ok quindi questo era il concetto del diritti garantiti da Dio che tu ci credi in Dio o non ci credi non è importante noi dobbiamo togliere questa cosa perché lui viene il più forte e dice ma adesso il diritto te l'ho dato io no me l'ha dato Dio tu anche sei una creatura di Dio quindi sta zitto stai sotto viene prima Dio è un concetto molto importante se si riesce a capire perché metti Dio prima e poi l'uomo e questo non significa che dobbiamo dobbiamo pregare Dio no coglione è una difesa per i pezzi di merda che si sono sostituiti a Dio oggi però questo è un problema mentale con l'uomo moderno diciamo che non riesce a capire molte cose io credo che loro usino anche mind control come diceva nel suo ultimo video misteri cioè lui diceva se vedete ogni di queste cose che ci hanno fatto tipo jfk quindi kennedy quando hanno ucciso kennedy sempre loro quando 11 settembre sempre loro e il coglione a virus sempre loro in alto è come se c'è prima uno shock del pecorame diciamo che lui equiparava esattamente al mind control la tecnica quando devono controllare mentalmente un uomo e fargli fare delle cose no? cioè prima uno shock no? in questi tre casi mettiamo anche la guerra paura del nucleare shock boom quindi jfk ammazzato colpo in testa diretta tv 11 settembre boom due grattacieli vanno giù shock e poi lui quindi metteva e diceva che anche il prossimo sarà qualcosa che nessuno se lo aspetterà perché tutti questi eventi che ho detto adesso nessuno se lo aspettava neanche il coglione a via ragazzi tutti si aspettavamo che ne so o che ci avrebbero rotto il cazzo questa cosa del global warming e ci avrebbero chiusi in casa eccetera eccetera cosa che faranno o che magari avrebbero fatto la cosa degli alieni adesso arrivano gli alieni quindi dobbiamo metterci tutti insieme per combattere questo unico nemico però nessuno si aspettava il V il virus invece abbiamo avuto il V e anche la Russia ma vediamo quest'altra quarta la Russia cosa se se perché il shock per il momento insomma è stato per quei povracci che stanno là che hanno dovuto lasciare il proprio paese tutto quanto il resto del mondo la solita guerra che abbiamo visto però c'è l'elemento shock anche qui potenzialmente che potrebbe essere l'atomica che non esiste pegorella purtroppo te lo ripeto però come non esistevano gli aerei nell'undici o come non è esistito la morte di tutto in tv tutto questo quindi non ti puoi non ti puoi insomma lui diceva che c'è questo elemento di mind control mistery nel suo ultimo video interessante perché ha preso tutti questi eventi e ha visto un pattern che si ripeteva sempre un shock iniziale e poi la pegore anche se cerchi di parlare a qualche covidiota come chiamavano non riesci proprio e io lì non ero d'accordo con lui quando ho sentito ieri questo suo video perché perché noi non riusciamo a parlare con la gente e a convincere io con i miei ho avuto 100% di successo ragazzi io noi in famiglia siamo quattro con tutti e tre c'erano cascati tutte e tre quando vedevano in tv il vino dal 2020 è stato difficile ma con tutti e tre ci sono uscite nessuno dei tre altri membri della mia famiglia credono a questa minchiata anzi stanno dalla mia parte ragazzi e quindi quando lui mi dice non è possibile parlare non è possibile parlare per voi che non avete le pale di parlare con i vostri genitori anymore perché siete molto freddi io sono speciale io non non avrei mai lasciato che i miei credessero a quei mostri sto lì ci parlo finché non non capiscono so che è difficile è stato difficile ho lavorato un po' di più con mia madre e ci sono riuscito anche lei adesso capisce è tutta una questione che noi non ci parliamo più ragazzi non vogliamo sforzarci per questo questa merda va avanti loro sanno che siamo divisi anche in famiglia non ci parliamo più per questo sapevano benissimo che avrebbe funzionato questa cosa non sarebbe mai potuta non avrebbe mai potuto essere un successo negli anni 90 come ho fatto vedere lì quando lo prende per i capelli la sinistra erano adulti allora l'uomo ma anche in paesi dell'est adesso siamo bambini noi siamo rimasti siamo stati adulti fino agli anni 90 come ho detto in altri quindi questo era spero di avervi aperto un po' gli occhi su qual è il problema ok la vedo dura perché in questo stato di bambino diciamo è già il fatto che questo video è lungo molta gente non ha nemmeno pazienza di vedere questa roba e non riesce a capire l'importanza della virtù dell'uomo perché a noi essendo diventati ormai bambini è come se qualcuno gli dice ma senti ma stai mangiando junk food vedi che c'è un modo più pulito di mangiare ma per un per un tossico che ha sempre sparato del tutto quando tu gli parli di cose oppure quando dice a qualcuno che fuma ma lo sai che magari i tuoi polmoni non sono stati fatti per fuma perché ci sono quelli che fumano la marionale e dicono oh ma che cazzo l'ombrello fa bellissimo no io quando vedo tipo la tipo quando hanno mandato quella cosa la targa là de sul sulla sonda come cazzo voyage quello che cazzo che va con la targhetta dell'uomo e della donna non mi immagino che c'è l'uomo con la sigaretta così che non fa parte dell'uomo il cazzo de fumo che si deve fumare sempre una cosa così quindi ora che voi tutti i fattoni che fumate 24 ore vi siete incazzati mettete il pollice giù e spegnete sto video ciao meno coglioni ciao ciao tesare